Ciao a tutti da Vittorio, mentre Lotito parla gli altri comprano, così potremmo riassumere questo video, perché purtroppo queste sono le notizie che arrivano da Radio Calciomercato. Lotito parla, si celebra, si autoesalta, gli altri comprano gli obiettivi della Lazio. Prima però di parlare di questo argomento fatemi salutare e ringraziare Giustino Sbraccia, nuovo abbonato del canale, benvenuto a bordo, ricordati che c'è il server Discord per contattarmi, grazie per il tuo abbonamento, è molto importante per me e ovviamente invito tutti gli altri, se vi piace il canale pensate ad abbonarvi, veramente si parte da 0,99 centesimi, quindi veramente poco e mi aiutate a crescere. Ma torniamo al nostro argomento, torniamo al problema di questo video, perché Lotito domenica si è autoincensato, autocelebrato, miglior presidente del secolo, grandissimo manager, profeta in patria, quello che volete, intanto Kerkez saluta e va in Inghilterra. Kerkez che da oggi non è mai stato un obiettivo della Lazio, Kerkez che Lotito non ha mai inseguito, Kerkez che Sarri non ha mai chiesto. Però intanto il difensore giovanissimo saluta la Zeta e andrà a Bournemouth. Ecco, Bournemouth, non parliamo del Real Madrid, non parliamo del Liverpool, non parliamo del Chelsea. Kerkez andrà a una squadra di Premier League inglese che pagherà tanti soldi, ma che non gioca in Champions, non ha ambizioni europee, eccetera eccetera. Bene, questo perché Lotito ha aspettato, preso tempo, riflettuto, analizzato, rilasciato interviste, fatto politica nel Molise, fatto campagna elettorale a Roma, ma gli acquisti in casa Lazio dormono. E Kerkez non ha voluto aspettare la Lazio e ha trovato l'accordo con Bournemouth e ha salutato tutti. Uno degli obiettivi importanti di questa stagione della Lazio è il terzino sinistro e sarà così finché non arriverà qualcuno e quel qualcuno non sarà Kerkez. Togliamocelo della testa. Peccato perché si parlava di un ragazzo giovane, interessante, che aveva già giocato in Italia, che aveva già giocato in Europa, ha già dimostrato di avere qualità importanti, ma non andrà alla Lazio e quindi direi che la Lazio va all in su Luca Pellegrini, difensore che negli ultimi sei mesi della passata stagione ha giocato nella Lazio, anche se qualcuno potrebbe dire sì, praticamente ha giocato gli ultimi mesi perché all'inizio non ha mai visto il campo, però la Lazio ha deciso di ridursi le opzioni perché non ha affondato il colpo su Kerkez e quindi adesso ci rimane tra virgolette solo Luca Pellegrini. Attenzione, magari la novità sarà Mohamed Fares. Io ci scherzo ma fino a un certo punto perché a un certo punto le opzioni finiranno e la Lazio si ritroverà come al solito con un pugno di mosche in mano e quindi dovremmo fare di necessità a virtù e diremmo che l'obiettivo è sempre stato recuperare Mohamed Fares. Che intendiamoci? Non è un difensore scarso ma è reduce da due infortuni al ginocchio e quindi la garanzia che possa giocare di nuovo a buoni livelli e chissà quante partite giocare è un punto di domanda importante. L'Otito si autocelebra, la Lazio al momento ha fatto un solo acquisto, anzi neanche quello perché Castellanos ha sì passato le visite mediche, ha sì firmato il contratto ma non ha ancora il visto per giocare in Italia e quindi anziché raggiungere il ritiro di Auronso ieri sera è tornato in Spagna e chissà quando raggiungerà Maurizio Sarri ad Auronso e quindi la Lazio ad oggi si ritrova con ufficialmente zero acquisti perché Castellanos non è ancora ad Auronso ad allenarsi col gruppo ma l'Otito si celebra, si ritiene un grandissimo imprenditore ma gli acquisti li fanno gli altri. Kerketz è andato a Bournemouth, Inter, Milan, Juve, Roma continuano a fare i colpi, la Lazio continua a chiacchierare e purtroppo con le chiacchere si combina poco o niente, bisogna affondare il colpo, non siamo più a giugno, siamo a metà luglio passato e la Lazio è ancora ferma a zero, non solo, anzi direi meno uno perché per adesso abbiamo venduto Milinko Isavic che era stato il nostro giocatore più forte, non si sa ancora chi sostituirà Milinko Isavic perché Zielinski è un nome ma la Lazio non ha affondato il colpo e chissà chi saranno gli altri obiettivi e quindi siamo qui ad aspettare l'Otito che si decida di smettere di chiacchierare e di affondare qualche colpo. Intanto Kerketz che era un obiettivo che onestamente mi intrigava, devo dire che fra Kerketz e Pellegrini forse Kerketz mi piaceva di più, Pellegrini sicuramente conosce bene Sarri, ha fatto sei mesi con la Lazio e quindi è avanti dal punto di vista di apprendimento ma Kerketz è giovane, forte e è un profilo che può crescere molto nei prossimi anni, il fatto che al momento Pellegrini non abbia richieste deve fare riflettere e non è una bella riflessione per i tifosi della Lazio. Ovviamente questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Schirmamenti qua sotto e noi ci rivediamo dopo con un altro video. Ciao!